Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, all'età di 10 anni prende parte ai primi spettacoli teatrali, sia pur a livello amatoriale, a Sant'Agata di Puglia, dove trascorre l'infanzia, 4 anni, dopo inizia a seguire dei laboratori teatrali. Comincia, quindi, a studiare recitazione in giovane, età al Teatro dei Limoni di Foggia e, all'età di 19 anni, entra al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel frattempo si laurea in lettere presso l'Università degli Studi di Foggia. Le riprese per la quattordicesima stagione di Don Matteo riprenderanno la prossima primavera, più precisamente a marzo del 2023. La new entry, Don Massimo interpretato da Raoul Bova, ha convinto i milioni di telespettatori che hanno comunque seguito la serie in maniera costante dopo l'addio dello storico protagonista Terence Hill. Arriva però un triste annuncio che vorrebbe un altro amatissimo personaggio fuori dalle prossime puntate e indirizzato verso altri progetti. Si tratta di Anna, interpretata dall'attrice Maria Chiara Giannetta. Ormai presenza fissa da tre stagioni. Gli sceneggiatori sono già a lavoro e sembra che nelle dinamiche future la protagonista pugliese e il suo collega Maurizio Lastrico non saranno più presenti. Un fulmine a ciel sereno siccome l'ultima puntata, trasmessa in onda lo scorso maggio, ha chiuso con un bacio appassionato tra i due. Potrebbe infatti solo una ragione molto forte come un trasferimento o un progetto di vita al di fuori di Gubbio, a giustificare l'abbandono dei due amatissimi attori. Potrebbe anche darsi che gli autori, dati i nuovi ingressi, abbiano voglia di far immergere il pubblico, in nuove dinamiche e nell'inizio, di una nuova storia d'amore con altri personaggi. Non ci resta che attendere per venirne a conoscenza.